Il lettore MP3 si presenta con una superficie satinata, in questo caso di color arancio, con forme ergonomicamente studiate, tonde, come vediamo nella parte superiore, quindi molto comodo e leggero, quasi impercettibile. Nella parte sopra troviamo il tasto blocca tastiere, il nostro display e abbiamo la tastiera del lettore MP3, caratterizzata da una rotellina con 4 funzionalità, per accedere al menu, avanzamento veloce, pausa, riproduzione musicale e fermo riproduzione musicale. Nella parte sotto abbiamo jack da 3.5 mm per gli auricolari e il connettore dock per il cavo USB 2.0. Apple iPod Nano Design.